Presente qui al salotto di mattina 9 che ci racconta questo nuovo album. Bondi. Praticamente spiego come è stato questo album. Io sono, diciamo, in particolare quest'arte. Attraverso questo album tu percori un viaggio nell'inferno. Questa forma d'arte, abbiamo detto minimalismo musicale. Poi in tutte le correnti artistiche, quando passano da paese a paese, ci mettono un po' di tempo appunto. Tu come ti sei avvicinato? Io mi sono avvicinato chiaramente a Tatti, perché il mio mondo è stato sempre... Però quello che ho fatto... Più rispetto alla musica. No, ma io penso sì, comunque sarà un... No, da ragazzino, insomma, sempre a studiare la tecnica, soprattutto musicale, fare pratica. Oggi vediamo... Eh sì, diciamo, vabbè, ma... ...a questo problema, perché in realtà, è ovvio, non soltanto, perché altrimenti sarebbe creare... Eh sì. ...e realizzate principalmente per loro, sono finalizzate... A norma anche per i disabili? Certamente, sì. Perché ci sono otto docce a due... C'è una collaborazione a livello internazionale. E poi, in realtà...